Sblocco 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 Si Come vedete Ha riconosciuto perfettamente Il nostro WOL Adesso E siamo entrati nello sblocco Come avete visto è velocissimo Basta andare all'interno delle impostazioni Security Andare a modificare La schermata di sblocco Con Face Unlock Abbiamo la schermata di setup Che ci permette di inserire la nostra immagine E quindi noi andremo a fare l'intercopato scatterà diverse fotografie alla fine del giro il riconoscimento facciale sarà completato continuiamo e dobbiamo inserire un pin o un gesto se il riconoscimento di voto non viene effettuato quindi noi inseriamo un gesto banale e possiamo tranquillamente adesso andare nel nostro blocco a schermo e sbloccare tramite la faccia come vedete è veramente immediato non ci sono tempi di attesa automaticamente noi sblocchiamo ci facciamo vedere se il telefono non lo riconosce abbiamo lo swipe ma ovviamente c'è sto dritto di riconoscimento iniziamo diciamo 6 Grazie per la visione!